I militari della stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno effettuato un sopralluogo presso una nota ditta di lavori edili nella contrada Salvarola, nel territorio comunale di San Gregorio Magno. La pattuglia ha riscontrato la presenza di un'area di circa 90 metri quadrati adibita a discarica di rifiuti speciali non pericolosi, composti da residui di demolizioni edilizie, residui di demolizioni di manto stradale, materiali ceramici e pezzi di calcestruzzo armato. Il volume dei rifiuti rinvenuti ammonta circa 37 metri cubi. Ad un ulteriore approfondimento inoltre si è accertato che il piazzale era stato realizzato mediante un movimento di terreno in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza del relativo titolo autorizzativo. Alla luce di quanto accertato si è provveduto a mettere sotto sequestro il piazzale e a deferire all'autorità giudiziaria i responsabili delle attività illecite, nei confronti dei quali è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo pari a 300 euro.